Con qualche inevitabile e comprensibile scoria dopo i festeggiamenti, la re canatese si fa sorprendere in casa da un Castelfidardo che se non altro ha avuto il merito di crederci dopo una prima mezz'ora di poco timida ed impacciata ma poi gettando sul piatto della bilancia le armi tipiche di chi si deve tirare fuori da guai e conquistando tre punti pesantissimi sulla strada che conduce ai play-out. Non piace perdere a nessuno e figurarsi alla capolista che stavolta però ha pagato Dazio con distrazioni difensive dovuto all'inesperienza del giovane portiere all'isordio e dal fatto che la concentrazione nonostante la buona volontà può talvolta scemare. Clima di festa al Tubaldi e non può essere diversamente con la squadra giallorossa in campo almeno all'inizio con il piglio giusto. Subito al sesto padroni di casa in vantaggio con un assist in profondità per Giampaolo che trova un varco invitantissimo sulla fascia e batte il portiere in diagonale. Sembra non esserci partite in questi frangenti con la re canatese a dominare la scena. Al dodicesimo Senigalliesi offre un saggio della sua bravura con una spettacolare girata che colpisce la parte inferiore della traversa ed a giudizio della terna con il pallone che esce. Poco dopo Morganti perde palla ancora Senigalliesi ad andare via sulla fascia non trovando però lo specchio della porta. Alla mezz'ora il raddoppio, cioccolatino di sbaffo ancora per Senigalliesi che stavolta si ferma ed attende rinforzi che puntualmente arrivano con un suggerimento per il capitano che arrotonda il suo score personale e trafigge De Malia dalla distanza. Piccioni mischia un po' le carte di cambi, hanno il loro effetto. Al quarantunesimo intanto i bianco-verdi accorciano, l'esordiente Cingolani riesce a neutralizzare su Morganti ma nulla può sull'appostato Perkovic che appoggi in rete da pochi passi. Il gol rivitalizza il castello che disputa una ripresa generosa e volitiva dopo un pericolo corso al quinto con Senigalliesi che spara al lato da ottima posizione. Al sedicesimo c'è una rete annullata a Defendi su conclusione di sbaffo per una posizione di fuorigioco. Un giro di lancette c'è il pari, erroraccio di Cingolani ne farà sicuramente tesoro per il futuro e Bracciatelli non perdona siglando il pareggio. Gli ospiti ci credono e fanno bene e dopo una rete annullata con qualche dubbio a Defendi approfittano di una dormita generale della difesa e strappano l'intera posta con il subentrato cardinale al quarantunesimo non rubando assolutamente nulla, mentre forse per la Re Canatese ci sarà una lavata di capo da parte del mister che probabilmente non avrà del tutto gradito.